Carissimi diocesani, carissimi voi popolo santo di Dio che abitate nei territori di Pistoia ma anche di Prato e di Firenze, con grande gioia io annuncio che il 9 gennaio prossimo inizierà un tempo davvero speciale per la nostra Chiesa, un anno santo, un anno santo dedicato alla memoria dell'Apostolo San Giacomo il Maggiore, da noi comunemente chiamato San Giacomo. Secondo un'antica tradizione l'anno in cui la festa dell'Apostolo, il 25 luglio, Cade di Domenica, viene indetto per tutta la cristianità un anno giubilare compostellano che fa capo a Santiago in Spagna. Dal momento che fin dall'anno 1145 si custodisce nella nostra cattedrale una preziosa reliquia di San Giacomo, proveniente proprio da Compostela su richiesta della loro abescovo di Pistoia, Sant'Atto, ho ritenuto cosa buona per la nostra comunità diocesana unirsi a questo evento e ciò al fine di un profondo rinnovamento della nostra vita cristiana e della Chiesa Pistoiese nel suo insieme. Questa, composta da persone che sappiano essere accanto a ogni uomo e donna feriti dalla vita e dal peccato come lievito di speranza, annunciando in parole ed opere il Vangelo, ha bisogno di radicarsi maggiormente nel Signore, di essere più fraterna e missionaria e quindi più attrattiva per la gioia e l'amore che vi si respira. Lo stesso triste tempo che stiamo vivendo a causa della pandemia domanda un più di energia spirituale per reagire alla durezza del presente e orientarci al futuro con speranza. Anche per questo l'anno santo viene a proposito. Tramite la penitenzieria apostolica il Santo Padre Francesco si ha concesso di celebrare l'anno giubilare compostelliano dal 9 di gennaio al 27 dicembre del 2021, permettendo ai fedeli di poter ricevere in questa occasione l'indulgenza plenaria alle consuete e note condizioni, la confessione sacramentale, la comunione eucaristica e la preghiera per il Sommo Pontefice. Durante tutto questo tempo di grazia che è l'anno santo, ognuno di noi è invitato a pregare più intensamente, meditando spesso il Vangelo e le altre esate scritture, a ripensare alla sua vita e a quella della comunità cristiana, perché siano più conformi alla volontà di Dio. E infine a continuare ad amare, servendo gli altri in specie gli ultimi, con vera dedizione, e con vera dedizione, ponendosi alla scuola dell'Apostolo San Jacopo e chiedendo la sua intercessione.